Sono Maurizia Sereni, sono la responsabile editoriale e produttrice creativa di Movimenti Production. Oggi sono qui e abbiamo fatto un workshop insieme a Giovanna Bo, Executive Producer di Doghead Animation, per parlare della filiera produttiva dei prodotti di animazione, per cui dalla scrittura alla messa in onda, soprattutto di tutta la parte di scrittura che fa parte della produzione e preproduzione dei progetti di animazione, per cui all'interno della filiera produttiva tutto quello che riguarda la creazione di un progetto, dando anche qualche indicazione su come andare a presentare un progetto a un produttore nel momento in cui appunto uno fosse autore o designer e invece poi la mia collega Giovanna è entrata più nel merito proprio di tutta la produzione di un progetto di animazione, che è molto diverso da quello di una fiction. Abbiamo portato il caso di quella che è stata la prima produzione realizzata completamente da Movimenti Production e Doghead Animation, che sono appunto le nostre società, che è stata la realizzazione della serie animata di Topo Gigio. Attualmente ci sono due stagioni, è una serie completamente prodotta in Italia, per cui comunque un unicum delle serie di animazione italiane e questo è pronto. iscriviti al nostro canale!